buongiorno amici di sempione news questa mattina abbiamo con noi paolo scheriani grazie paolo di aver accettato l'invito paolo è il direttore artistico di questo nuovo progetto in prima fila che è legato alla giornata mondiale del teatro del 27 marzo ma che in qualche modo noi anticipiamo e sul nostro territorio dal 21 paolo ci dici quali sono un po i valori ma anche in prima fila cosa sottende allora ti ringrazio innanzitutto dell'invito e ringrazio davvero l'occasione per parlare di questo programma molto ricco e nutrito in prima fila legnano in prima fila giornata mondiale del teatro nasce all'interno della cooperativa la mano che sempre di più sta diventando un punto di riferimento per la cultura legnanese con tutta una serie di eventi e che nell'arco dell'anno e vengono proposti a tutta a tutta la città in questo caso abbiamo deciso di mettere l'accento proprio sul teatro perché perché ormai da decenni il 27 marzo si celebra e si festeggia il teatro la giornata mondiale del teatro noi abbiamo deciso di dare importanza a questa giornata creando una programmazione di eventi di spettacoli di incontri di lezioni che partono dal 21 marzo e finiscono il 2 aprile coinvolgendo tutte le realtà legnanesi che lavorano in ambito dello spettacolo dal vivo quindi teatri compagnie e tutte persone che si spendono in prima persona perché la luce del teatro rimanga sempre viva in una città importante come quella di legnano mi sono permesso di chiedere con gli occhi il microfono a paolo perché tu hai fatto un'operazione veramente per noi straordinaria sei riuscita a coinvolgere tutti i teatri tutte le realtà di artistiche del territorio come ci sei riuscito e quali sono ma ti dirò che è molto semplice la cosa alle volte basta chiedere alle volte ci si dimentica di chiedere quindi le persone preposte le i soggetti preposti che dovrebbero chiedere a volte probabilmente presi da tante altre cose non non pongono la particolare attenzione su certi argomenti e quindi io ho semplicemente deciso di chiederlo per la cooperativa la mano quindi ci siamo rivolti al teatro tirinnanzi al teatro galleria al teatrino fontana radice timbrica al centro pertini salice alla sala ratti al circolone tutti quei luoghi dove c'è qualcosa sempre di che viene proposto nell'ambito dello spettacolo dal vivo e tutti si sono dimostrati disponibili interessati e contenti perché per la prima volta legnano qualcuno è riuscito a metterli in relazione alle volte c'è il sospetto quasi la paura che uno guardi un po' l'altro incagnesco come si dice però il teatro è un mondo un ambito un territorio dove ci si trova sempre un territorio comune quindi il fatto di mettere in relazione tutte queste realtà non fa altro che amplificare dare forza a tutte queste realtà quindi direi che tutti sono rimasti molto contenti da questa da questa chiamata la chiamata ci sta ci sta anche un altro valore molto forte di questo progetto l'inclusione l'inclusione tirare dentro tutti in un certo modo ma anche inclusione economica perché una a volte lo spettatore un po spaventato dal prezzo del biglietto che a volte sembra così in avvicinabile invece sei riuscito anche a calmirare i prezzi raccontalo tu allora abbiamo chiesto chiesto a tutte queste realtà se potevano in qualche modo in occasione del proprio del festeggiamento di questa giornata mondiale del teatro riuscire a ritagliare dei biglietti o degli eventi o a titolo gratuito o con dei prezzi scontati per l'occasione questo è accaduto il teatro galleria il teatro tirinnanzi metteranno a disposizione dei prest dei prezzi dei biglietti a prezzi davvero scontati realtà invece come radice timbrica come il centro pertini a diritto salice faranno spettacoli a ingresso gratuito anche la sala ratti sarà ingresso gratuito il circolone anche lui ha messo un prezzo scontatissimo quindi a seconda anche delle possibilità di uno dell'altra realtà sono venuti incontro comunque proprio perché il teatro deve essere alla portata di tutti cioè tutti possono devono permettersi di poter usufruire di questo di questo bene e quindi a volte non tutti hanno le possibilità le condizioni per farlo in questa occasione cerchiamo il più possibile di dare l'occasione a tutti i cittadini di legnano di venire a teatro paolo io direi più che ora fare l'elenco degli spettacoli che lo metteremo nell'articolo allegato l'altro valore che a me colpisce molto è il giorno del 27 dove c'è proprio alla ricerca dello spettacolo perfetto questo aspetto mi piace dal punto di vista di uno spettatore uno che frequenta un po i teatri perché forse anche qui per la prima volta c'è un confronto tra teatrante e spettatore a volte noi siamo un po troppo passivi invece quest'altra formula a me piace tanto ce la racconto e poi salutiamo il nostro pubblico allora ti ringrazio anche per questa occasione di parlare nello specifico di questo incontro rubo soltanto pochi secondi per dire che oltre gli spettacoli che vengono proposti ci saranno delle occasioni proprio di approfondimento ce ne sono tre in particolare il primo è una sorta di lezione semiseria sull'andare a teatro dieci regole per andare a teatro però sono regole che poi ci rideremo anche sopra un'altra occasione di incontro e di approfondimento è una lezione spettacolo sulla comicità tenuta da me e da Max Pisu e queste due questi due appuntamenti saranno proprio all'interno della cooperativa la mano mentre il 27 che è proprio la giornata mondiale del teatro avremo daremo appuntamento in sala pagani al palazzo leone da perego in quell'occasione dici bene noi cercheremo proprio di confrontarci e di dialogare con il pubblico perché i teatranti a volte immaginano cose che poi alla fine non rispecchiano l'interesse il volere la volontà il piacere del pubblico e quindi i teatranti continuano a pensare qual è lo spettacolo perfetto da presentare in realtà lo spettacolo perfetto non è uno sono tanti ma sono quegli spettacoli che vanno incontro davvero al gusto del pubblico e quindi i gusti del pubblico sono tantissimi e quindi va bene lo spettacolo di intrattenimento va bene lo spettacolo di cabaret va bene lo spettacolo sperimentale l'importante è che ci sia un'onestà intellettuale che permette al pubblico di godersi uno spettacolo indipendentemente che sia una commedia o una tragedia shakespeariana l'importante è uscire arricchiti e col cuore gonfio di meraviglia quindi questo è a questo punto ci dici il primo appuntamento e poi ci salutiamo perfetto il primo appuntamento sono due perché sono così tanti appuntamenti che magari nella stessa giornata accadranno più cose quello che accadrà anche martedì 21 il tutto inizia martedì prossimo martedì 21 vi diamo appuntamento sia alla sala ratti con la proiezione del film pene d'amor perdute tratto da william shakespeare con la regia di Kenneth Branagh introdurrò il film l'ingresso come dicevo è gratuito mentre se qualcuno vuole invece andare incontro più ad esigenze di divertimento in realtà anche in questo film ci si diverte molto l'appuntamento è al circolone al circolone uno spettacolo di cabaret con tenuto diciamo c'è una scuola di cabaret tenuta da riccardo pifferi che conosco è davvero una persona importante ha scritto davvero tanti spettacoli per tanti cabarettisti e quindi ci sarà l'occasione di ridere sanamente e al circolone ricordo l'ingresso a 10 euro quindi vi aspettiamo potete fare sia uno che l'altro venite a vedere il film e poi andate al circolone comunque trovate tutto sul sul programma infatti io vi invitavo facciamo vedere anche la locandina di là perché effettivamente ce n'è tanta noi ringraziamo paolo ringraziamo quello che fai tu e la tua compagna e ringraziamo anche l'amministrazione che in qualche modo vuole ha creduto in questo progetto la fondazione ticino lona perché ha sostenuto senza la quale non sarebbe potuto accadere tutto questo e anche l'amministrazione che ha dato il suo patrocinio i miracoli accadono seguiteci su Sempione News grazie ancora